Sobrietà, semplicità, carisma. In pochi minuti incanta tutti con il suo sorriso pulito e i suoi occhi sereni. È così che l'attrice Claudia Coll, arrivata a Catanzaro per la consegna del premio speciale Solidarietà 2015, si presenta qualche ora prima dell'inizio dell'evento. Prima di salire sul palco l'ospite d'eccezione della terza edizione di Una Notte per San Sebastiano, un'iniziativa organizzata da Don Francesco Cristofaro e svoltasi nella suggestiva cornice del comune di Simari, ha fatto tappa nei locali della gioielleria Megna, una delle attività commerciali che ha consentito con il proprio contributo la riuscita dell'evento. Un gesto di riconoscenza nei confronti di chi ha scoperto la gioia del dono a sostegno di progetti benefici come quello per cui da anni è impegnata in prima persona l'artista, cioè la realizzazione di una clinica per la riabilitazione fisiatrica in Burundi. Io sono stata in Africa in un momento anche delicato di cambiamento, era appena iniziata la conversione quindi c'era un desiderio di comprendere meglio il Vangelo e i poveri mi hanno aiutato a guardare con maggiore distacco all'attaccamento ai beni che qui abbiamo perché quando ho visto bambini che morivano di fame, quando ho visto le case dei poveri in cui non ci sono le sedie, non ci sono i tavoli, non ci sono i letti, non ci sono gli armadi, è solo pavimento a terra con una stuoia. A volte se c'è una tavola non c'è però il materasso. Allora sono tornata in Italia e ho cominciato a non sprecare il cibo, a comprarmi sì le cose ma a non straspendere più per me ma pensare che c'è chi non ha proprio niente e quindi diventa proprio un'ingiustizia che da una parte ci sia tanto e dall'altra parte del mondo non ci sia niente. Il tuo personaggio è sicuramente associato come prima accennavi tu a questa conversione di cui tu più spesso hai parlato ma conversione significa cambiamento, un percorso che viene fatto nel tempo. La difficoltà maggiore qual è stata? La difficoltà maggiore è stata cercare di essere più autentica possibile e comunicare questa autenticità agli altri. Un po' come dire togliamo tutte le false illusioni, andiamo all'essenziale perché l'uomo tende sempre a farsi sempre gloria, a costruirsi degli altari sui quali poi inneggiare a se stesso. Il problema è che al centro della nostra vita va messo Dio, non noi. Che a volte noi viviamo una vita solo così frenetica, apparente perché in qualche modo non vogliamo affrontare il problema principale, cioè noi non siamo stati creati per 30, 20, 10 anni della nostra esistenza, siamo stati creati e siamo venuti al mondo per una vita per sempre, cioè per l'eternità, per il paradiso. E quindi bisogna togliersi tutte le false illusioni e cercare di capire qual è il senso della vita, perché viviamo, cosa c'è dopo la morte. Perché pensare che non esiste niente vuol dire, diciamo, in qualche modo restringere il campo della propria esistenza, allora diventa disperante. Forse questo è un messaggio troppo difficile da far arrivare soprattutto alle giovani generazioni che sono tempestate da tante distrazioni, a volte anche troppo forti. Però le distrazioni non danno la felicità, perché se andiamo a vedere ci sono molti giovani che soffrono dentro, che hanno delle ferite già pur essendo così giovani, no? E c'è in fondo, in fondo, in fondo, una grande sete di verità in ciascuno di noi e di amore. E il segreto della vita è tutto questo, cioè amare, amare e volersi bene, questo rimarrà.